Sono quattro gli automobilisti denunciati a piede libero e uno segnalato alla prefettura per guida in stato di ebrezza alcolica nel corso dei controlli dei carabinieri del comando provinciale durante il fine settimana. Altre due persone sono state segnalate all'autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Ad Arizzano l'ennesimo incidente è provocato dall'abuso di alcol. Nel primo pomeriggio di ieri una donna di 71 anni alla guida della propria auto ha perso il controllo finendo contro il muro di cinta di un'abitazione. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli. La donna, risultata positiva all'etilometro con un tasso di 1,54 grammi per litro, ha rifiutato il trasporto in ospedale per le cure del caso. La sera i carabinieri sono intervenuti al Penny Market di Verbagna dove era stata segnalata una donna che disturbava la clientela. Arrivati sul posto, i militari hanno accertato che si trattava della stessa persona coinvolta nell'incidente stradale del pomeriggio. Abrovello Carpugnino, un'automobilista alla guida di un autocarro, pur mostrando segni di uso di stupefacenti, ha rifiutato il controllo con il drug test ed è stato denunciato alla procura. Inoltre, nel corso del controllo è emerso che l'uomo, 41 anni, residente a Milano, non aveva mai conseguito la patente. Un giovane residente sulle colline verbanesi è stato invece fermato a bordo del proprio scooter, risultando positivo all'alcol test, mentre un altro automobilista è stato fermato e ha fatto anche lui registrare un tasso pari a 1,20 grammi per litro. A premeno, l'ultimo automobilista è incappato nei controlli e ha fatto registrare un tasso inferiore allo 0,8 che fa scattare la denuncia penale ed è stato solo segnalato alla locale prefettura. Tre sono invece le persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti a uso personale, trovate in possesso di modiche quantità di ascice e cocaina segnalati alla prefettura di Verbagna.